Buongiorno, io sono Stefano Artuso e sono stato invitato dal Lago SPA presso l'appartamento di Milano in qualità di esperto del mondo della pelle. Provengo da un'esperienza di realizzazione di borse per i grandi brand del lusso e oggi qui si tiene un workshop dove partecipano dei ragazzi giovani, makers, che propongono dei prodotti e delle idee soprattutto alla Lago SPA che intende arricchire la sua offerta con questi oggetti da presentare nel suo catalogo. Il mio contributo potrà essere quello di indirizzare, tranne l'esperienza che ho, queste idee e cercare di capire se dal materiale pelle e dall'idee possono uscire appunto dei prodotti che abbiano un valore poi sul mercato. Io sono Paola Colombo, detta anche Pollaz, lavoro con la macchina di apicire e creo oggetti per la casa, oggetti d'arredo che possono essere occupati oppure guanti da forno, ottobaglietti per la colazione e quindi legati alla cucina. Ciao, siamo le Babions, siamo un gruppo di Tescara, un collettivo di quattro ragazze. Io sono Giovanna, lei è Claudia, lei è Jessica e qui c'è Valentina, abbiamo lasciato tutto a casa. Lavoriamo con i filati, le stoffe, le lane e creiamo oggetti per la casa, vestiti, accessori per l'appoggiamento, usando anche l'uncinetto, i ferri, la macchina da cucire e quindi usiamo queste tecniche tradizionali per creare delle cose innovative, quindi un nuovo giorno nuovo. Ciao, siamo Vanessa e Michele, siamo Wiko e facciamo magliette con grafiche fatte a mano, tipo questa. Disegniamo noi la grafica e poi la ripruciamo a mano. Grazie a tutti.